Dopo una lunga pausa bentornati e bentornate al corso di chimica online per la preparazione testi d'ingresso e corsi di laurea al numero chiuso. Sono di nuovo qui con voi dopo una lunga pausa, ne ho parlato dei motivi che mi hanno costretto a questa momentanea sospensione dei video in un video che ho pubblicato qualche giorno fa e che trovate nel link giù in descrizione. Ma ora iniziamo subito a parlare di chimica e oggi introduciamo un argomento estremamente importante che è quello dei legami chimici. Nel video precedente abbiamo visto tutte le proprietà periodiche e abbiamo visto infine l'elettronegatività. Di tutte le proprietà periodiche l'elettronegatività è quella più importante perché a seconda dell'elettronegatività dei vari elementi chimici possiamo capire come questi si legano tra di loro e che tipo di legame formano. Il legame chimico quindi è una forza attrattiva che tiene insieme gli atomi all'interno di una molecola. Per ora quello che ci interessa è che possiamo avere tre tipi di legame chimico. Un legame di tipo covalente, un legame di tipo covalente polare, oppure possiamo avere quello che si chiama legame ionico. Questi tre tipi di legame ovviamente non sono tre scatoline, tre cose separate l'una dall'altra. Qualsiasi legame chimico a seconda delle proprietà degli atomi coinvolti può rientrare in una di queste tre classificazioni, ma in maniera continua. Quindi non c'è una separazione netta tra un legame covalente, un legame covalente polare, un legame ionico. È una scala continua. La differenza tra i tre tipi di legame risiede nella differenza di elettronegatività degli atomi coinvolti. coinvolti. Guardiamo cosa vuole dire prendendo un esempio molto semplice, che è la molecola di idrogeno H2. La molecola H2 è formata da due atomi di idrogeno legati assieme. Ogni atomo di idrogeno ha un elettrone che rappresentiamo con un puntino. Questo elettrone può essere emesso in comune tra i due atomi di idrogeno e in questa maniera si forma un legame chimico. Come vedete qui lo sto rappresentando come i due atomi di idrogeno e due puntini in mezzo. Questo tipo di scrittura con i puntini in cui il puntino rappresenta l'elettrone di legame si chiama scrittura di Lewis o struttura di Lewis. Scritto L-E-W-I-S. Quindi queste qua sono strutture di Lewis, ma poi le vedremo meglio più avanti. Per il momento è giusto per questi legami semplici. Possiamo anche rappresentare il legame chimico con una stanghetta, quindi H, stanghetta, idrogeno. Abbiamo detto che questo legame chimico nasce nel momento in cui i due elettroni, i due atomi, mettono in comune un elettrone ciascuno. La conseguenza è che dato che i due atomi sono uguali, questi elettroni sono ugualmente distribuiti tra i due atomi. Questo è un esempio di legame covalente puro. Nel legame covalente puro gli elettroni sono, per così dire, a metà tra i due atomi. Questo non vuol dire che si trovano effettivamente a metà. Ovviamente i due elettroni ruoteranno attorno a tutta la molecola, all'interno di un orbitale molecolare. Se all'interno di un atomo abbiamo degli orbitali atomici, nelle molecole abbiamo degli orbitali molecolari. Per esempio, il nostro idrogeno, che ha un orbitale S, che è circolare, quando va a interagire con l'altro idrogeno, forma un orbitale molecolare che ha la forma di una salsiccia. I due elettroni sono ugualmente, diciamo, distribuiti in questa nube elettronica attorno ai due idrogeni. Però, appunto, ugualmente ci passano ugual tempo sull'idrogeno e ugual tempo sull'altro. Se noi invece andiamo a prendere, per esempio, il legame tra l'idrogeno e il cloro, la situazione qui è diversa. Poi vediamo meglio come scrive la struttura di Lewis anche per HCl. Per il momento accontentiamoci di sapere che anche qui l'idrogeno mette in comune un elettrone con il cloro. Alla fine quindi avremo un legame idrogeno-cloro. Qual è il problema? Il problema è che il cloro è molto più elettronegativo rispetto all'idrogeno. Qual è quindi il risultato di questa maggiore elettronegatività del cloro? Che il cloro tenderà a trattenere gli elettroni più fortemente rispetto all'idrogeno. Per cui avremo una maggiore densità elettronica sul cloro e una più piccola sull'idrogeno. Detto in altra maniera, possiamo dire che sul cloro c'è una parziale carica negativa e sull'idrogeno c'è una parziale carica positiva. Vedete, mentre nel caso dei due idrogeni il nostro orbitale era ugualmente distribuito, era simmetrico, in questo caso il cloro ha la maggior parte della densità elettronica. Quindi il legame idrogeno-cloro è un legame covalente polare. Nel legame covalente l'elettronegatività tra i due atomi è molto vicina o uguale. Nel legame covalente polare la differenza di elettronegatività è molto più grande. Ma cosa succede quando invece la differenza di elettronegatività è molto grande, molto molto grande, ancora più grande di quella tra l'idrogeno e cloro? Allora abbiamo un nuovo tipo di legame chimico che è il legame ionico. È il caso per esempio del legame tra il sodio e il cloro in NaCl, nel cloruro di sodio. Nel cloruro di sodio non abbiamo più un legame sodio-cloro con divisione di elettroni. La differenza di elettronegatività è così grande che possiamo semplicemente dire che il sodio ha ceduto un elettrone ed è quindi diventato uno ione positivo Na+, e il cloro ha accettato questo elettrone dal sodio ed è diventato uno ione negativo Cl-. Nel legame covalente polare abbiamo una condivisione di elettroni, ma questi elettroni sono più spostati da una parte rispetto all'altra. Mettiamola così. Nel legame ionico questi elettroni sono così spostati verso una parte che sostanzialmente sono stati persi da un atomo e acquistati dall'altro. Il legame ionico è sostanzialmente un legame puramente elettrostatico. È una forza elettrostatica tra uno ione positivo o più ioni positivi e uno ione negativo o più ioni negativi. Ovviamente questo vuol dire anche che in realtà, mentre nel caso dell'idrogeno ha senso parlare di una molecola di H2, mentre in HCl ha senso parlare di una molecola di HCl, nel caso di cloruro di sodio, quindi di NaCl, non ha molto senso parlare di una molecola di NaCl, perché sostanzialmente abbiamo soltanto ioni positivi e ioni negativi, ma è una pura forza elettrostatica. Quindi, a essere precisi, quando abbiamo a che fare con un legame ionico non parliamo più di molecole, ma parliamo di ioni che interagiscono tra di loro attraverso una forza elettrostatica. Quindi, NaCl non è la formula di una molecola, è quella che si chiama unità formula. È un modo per dire che un cristallo di cloruro di sodio è formato da un uguale numero di ioni sodio e ioni cloruro. Ma non ci sta dicendo che esiste una molecola NaCl, ok? È una differenza sottile ma importante che potrebbe anche capitare nei test. Finora vi ho semplicemente detto che il legame è covalente se la differenza di elettronegatività è molto piccola e covalente polare, se questa differenza è importante, diventa ionico se la differenza è molto grande. Ma che vuol dire in termini pratici, nella vita di tutti i giorni, come lo faccio a sapere? Possiamo considerare il legame covalente quando la differenza di elettronegatività, chiamiamola delta E, la differenza di elettronegatività è minore di 0.4. Lo consideriamo covalente polare quando è tra 0.4 e 1.8. Lo consideriamo ionico quando è maggiore di 1.8. Ovviamente, fate attenzione, non è che all'improvviso scatta un click, scatta un meccanismo per il quale se la differenza di elettronegatività è 0.5, improvvisamente il legame è diventato da covalente a covalente polare. Questi numeri sono puramente arbitrari. È tutta una scala omogenea, in realtà. Non c'è una separazione fisica. Semplicemente, mano a mano, la densità elettronica si sposta sempre di più verso una parte. Vediamo qualche esempio pratico. facciamo insieme un esercizio. Per esempio, vogliamo capire se nella molecola di Cl2 abbiamo un legame covalente, covalente polare o ionico. Idem lo possiamo fare per la molecola di Br2, ad esempio, e poi ce lo possiamo chiedere anche nel caso dell'acqua, H2O, e possiamo anche chiedercelo per il cloruro di cesio, quindi CsCl. Qual è il tipo di legame in queste molecole? Basta andare a guardare la nostra tavola periodica. Allora, se abbiamo Cl2, abbiamo due atomi di cloro. Quindi per ora non andiamo a guardare esattamente come è fatto il legame. Sappiamo soltanto che sono due clori legati tra di loro. Questi due clori, ovviamente, hanno la stessa elettronegatività, perché è lo stesso atomo. Di conseguenza, ΔE, cioè differenza di elettronegatività, è uguale a zero. Quindi il legame è covalente, puro. Un legame covalente puro. Nel caso di Br2, ovviamente, è la stessa identica cosa. ΔE sarà zero. Quindi anche in Br2 avremo un legame covalente. E nel caso dell'acqua, invece, abbiamo un ossigeno che è legato a due idrogeni. Per il momento non fate caso a come sto disegnando la molecola, per esempio quello che ho disegnato angolata e non lineare. Lo vedremo più avanti questo. Per il momento sappiamo soltanto che abbiamo un ossigeno legato a due idrogeni. Ora, se noi andiamo a guardare l'elettronegatività, allora, per l'ossigeno è 3.5. Per l'idrogeno è 2.1. Quindi abbiamo una differenza di elettronegatività di 1.4. Questa differenza di elettronegatività ci fa rientrare il legame ossigeno-idrogeno tra i legami covalenti polari. Quindi questa volta abbiamo un legame che è decisamente polare. Queste nozioni non sono puramente retoriche. Sono, al contrario, estremamente importanti per capire la reattività delle molecole. Il fatto che il legame ossigeno-idrogeno sia polare è il motivo per il quale esiste la vita. È il motivo per il quale l'acqua ha le proprietà che conosciamo. È il motivo per il quale le basi del DNA si appaiano in un certo modo. Lo vedremo più avanti sempre queste applicazioni come dal tipo di legame cambia la reattività della molecola. Ma per il momento sappiate questo, che è veramente una cosa di grandissima importanza. Quindi mi raccomando esercitatemi bene. Se prendiamo il cloro di cesio, di nuovo vediamo che il cloro cl ha elettronegatività 3.0, il cesio ha elettronegatività 0.7 e di conseguenza qui abbiamo una differenza di elettronegatività di ben 2.3. Ora, con una differenza di 2.3 siamo decisamente all'interno di un legame ionico. Quindi avremo un bel cs più e un bel cl meno. Ovviamente notate come se io ho per esempio CaCl2, anche in questo caso avrò un legame ionico, ma questa volta avrò uno ione calcio 2 più e poi avrò due ioni Cl meno. Quindi il calcio cede un elettrone a ciascun cloro. Come mai nel caso il cloro di calcio abbiamo CaCl2 e nel caso il cloro di cesio abbiamo CaCl. Perché l'acqua è H2O e non OH? Mentre appunto Cl2 è Cl2 e non Cl3. Lo scopriremo nel prossimo video. Per cui restate connessi e ovviamente non perdetevi il prossimo video che sarà pubblicato tra due settimane. Se qualcosa non vi è chiaro, ovviamente chiedetemelo nei commenti, fatemelo sapere. Io farò del mio meglio per rispondere a tutti quanti. Ovviamente non sempre posso farlo immediatamente, ma quando possibile lo farò. Per cui non esitate a lasciarmi un commento. Spero di essere stato chiaro e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Grazie a tutti!